Ho avuto ecco di tutte le testimonianze di quanto avete fatto, pregato, delle campane che hanno suonato nella diocese. Non ho parole per dirvi grazie. Sto bene, è stata lunga, ma sto bene, sono contento. Ho sognato tanto questo giorno di tornare a casa il paese e la famiglia. Rivedendo il tuo paese cosa ti faccio. Grazie.